I carabinieri di Modica, alle prime luci dell'alba, hanno eseguito tre ordinanze di custodia cautelare e domiciliare per tre donne accusate di usura aggravata in concorso e leggi d'attività di intermediazione finanziaria. Si tratta dell'operazione Donne d'Affari, che ha condotto all'arresto domiciliare appunto Leonora Brava, 40 anni, Giovanna Inbergamo, di 62, e Maria Concetta Neri, di 59, e inchiesta ha preso lo spunto nel giugno 2016 dopo il suicidio di Guglielmo De Libera, trovato morto impiccato nella sua casa Maria Di Modica, già direttore delle poste di Scicli. Dopo le prime indagini vennero riscontrati i contatti del defunto con Maria Concetta Neri, una delle donne appunto sottoposta ai domiciliari e designata dalle fonti, quale soggetto dedita a prestare denaro a tasse usurari. I reati contestati alle donne sono così frutto di un sistema radicato di concessioni di prestiti facili e di denaro a tasse di interesse usurari. Sfruttando così lo stato di bisogno di persone con difficoltà economiche, date le arrestate si erano poste come riferimento per questi soggetti allargendo prestiti e crediti facili e pretendendo per un tasso di interesse oscillante dal 20% sino ad arrivare al 60%. Inoltre, in caso di problema ad esigere quanto dovuto, le tre non esitavano a minacciare le loro vittime, parlando di interventi di amici di Catania che potevano essere più convincenti di loro.